Gianni, ma perché queste menzogne da chi tiene le fabbriche, da chi governa questo paese, quando la realtà dei lavoratori è tutta da scoprire, è tutta da vedere, le loro difficoltà ad arrivare a fine mese, le loro difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro per i giovani, perché ci dicono queste bugie? Per la semplice ragione che vogliono oscurare la gravità della crisi e il fatto che lo stesso governo non ha attuato nessuna iniziativa per fare fronte alla crisi parlando d'altro. Dopodiché c'è come sempre anche un elemento di verità, perché se uno pensa che valuta la crisi in base all'andamento della borsa e come vanno le banche, è vero, vanno un po' meglio. Se uno guarda all'economia reale, ai lavoratori, ai licenziamenti, alla cassa integrazione, devo dire che siamo purtroppo all'inizio della fase peggiore per quanto riguarda la condizione materiale della gente. Grazie per la visione!